Signori, guardate la notizia di oggi, 9 ottobre, blizz dei Carabinieri al Palazzo dei Giganti, sequestrati documenti relativi alla sagra del mando Rembiore e finalmente al Capodanno il concerto di Achille Lauro. Ve lo ricordate il concerto di Achille Lauro? Quello che è costato una barca di soldi, 200 mila euro, attraverso i mandati firmati dal pregiudicato, scusatemi signori, non mi viene da ridere, dal pregiudicato per estorsione, tanto tuonò che piove e ma le cose cominciano a muoversi e penso proprio che Franco Miccichè debba cominciare ad antarsene via. Ma non devo parlare degli imbrogli del comune per cui i Carabinieri sono andati a Palazzo di Città, vi faccio vedere anche la notizia su Grandangolo, ecco qua, aperta l'inchiesta, mandorle in Viore, concerti, imbrogli, la morte di Alberto Re, per ora ci sono alcune persone, alcuni artisti del comune, alcuni specialisti in musica del comune che credo non dormano molto tranquilli. Eh ma, allora, non dobbiamo però al momento parlare, ci ritorneremo molto presto, delle mie denunzie che hanno avuto corso. Oggi parliamo nuovamente di Tua Saiz e parliamo dei comunicati di Tua Saiz. Qui abbiamo un altro giornale, la prima pagina ha un viso che non è esattamente quello che fa dormire sereni i bambini la notte, anzi, visto che c'è questo viso, al momento tappate gli occhiucci ai bambini più piccoli, ci interessa farvi vedere che il giornale Sicilia 24H ha dato notizia, vedete, Sicilia 24H, del comunicato della Tua diffamatorio ed intimidatorio nei confronti miei, ma anche della sovraintendenza. Adesso lo commenteremo il comunicato della Tua. Prendiamolo integralmente, mi pare di averlo caricato un attimo soltanto. Dunque, questo è il comunicato dei legali di Tua Saiz. La prima osservazione è che questi legali non si firmano. è una cosa molto strana, nota dei legali, non firmata, aggrigendo 7 ottobre 24, cioè l'altro ieri, lunedì. Questi legali che non mettono la firma diffondono un comunicato che prontamente un giornalista grandioso come l'Elio Castaldo ha diffuso. Ecco qui, l'Elio Castaldo che diffonde il comunicato della Tua e della Saiz, si mette i timbri, le male parole contro di me, il signor Arnone a moderare toni, a sforzarsi di essere obiettivo, grandi male parole nei miei confronti. Ora lo vedremo e lo commenteremo integralmente, ma soprattutto, signori, ho già risposto al loro comunicato e ho risposto attraverso la Procura della Repubblica e attraverso la sovraintendenza. Questa mattina, 9 ottobre 2024, mi sono legato in Procura e ho depositato un'altra denunzia rispondendo a questi signori, perché questi signori mi hanno aperto gli occhi su altri imbrogli che adesso, diciamo, vi illustrerò. Ho già mandato la denunzia alla sovraintendenza, vi ve lo faccio immediatamente vedere. Questa è la mia PEC, oggi, oggi, vedete, apriamo e qui c'è la denunzia depositata in Procura e alla sovraintendenza. Ma prima di illustrare la mia risposta, illustriamo quello che dicono questi ignoti legali, ignoti legali che non si firmano e sono illegali, genericamente detti. Dicono, non è stato commesso alcun abuso nell'autoparco, tutti gli atti sono stati autorizzati dalla sovraintendenza. Come si suol dire, il Marchese del Grillo a questo punto direbbe, i miei coglioni, tutto autorizzato. Quindi la sovraintendenza fa abusi di alcol, sono ubriachi e fanno denunzie contro la tua SAIS, incredibile ma vero. Poi, guardate, non stupisce che le ormai solite notizie, apparentemente sensazionali, dove si cerca di screditare la tua, Trasporti Urbani Agrigento e la SAIS Trasporti, vengano divulgate sempre nel fine settimana, quando possono avere la massima visibilità. Trattenete le risate a diffondere la notizia nel fine settimana, cioè venerdì 4 ottobre, è stata la sovraintendenza, guardate qua, 4, 10, 24, cioè la sovraintendenza diffonde le notizie di venerdì per dare massima visibilità in danno alla tua SAIS. Ave sto chiurito, come direbbe mia nonna, la sovraintendenza. Ci chiure e quindi fai le note di tre pagine mandate ai carabinieri e alla procura della Repubblica di venerdì. Ma stupisce, questo sì che chi le divulghi si freggia ancora del titolo di avvocato. Allora, la nota è della sovraintendenza, la nota è della... mi è caduto qualcosa, forse la stella di sceriffo e dobbiamo prenderla subito, non possiamo lasciarla per terra. Signori della tua SAIS, ecco la stella di sceriffo, guardate, ah, mostriamo pure che la nota della sovraintendenza è mandata, oltre che all'associazione Giosuè Arnone, alla procura della Repubblica. La sovraintendenza di venerdì scrive alla procura della Repubblica e Arnone diffonde. Ma Arnone non si freggia del titolo di avvocato, signori della tua SAIS. Arnone non ha bisogno di freggiarsi di niente, Arnone è Arnone. E quello che conta, andiamo avanti. Non sorprende, scrivono la tua SAIS, tuttavia, che questi presunti scoop capitino casualmente, sempre in prossimità delle udienze relative ai dieci ex lavoratori invedeli che hanno commesso reati. Cioè, proprio sono ubriachi questi legali della tua SAIS, perché sostengono che esista un legame tra la sovraintendenza che fa il sopravvedimento il 4 di ottobre, lo manda ai carabinieri, alla procura, alla regione, a mezzo mondo, inclusa la procura della Repubblica, e perché la sovraintendenza fa tutto questo? La sovraintendenza fa tutto questo per interferire nel processo penale tra la tua e i lavoratori. Guardate, lo dicono loro, i cosiddetti legali di tua SAIS, si inventano questo. Siamo da oggi alle comiche, mai sentita una, scusate il termine, minchiata così grossa? Cioè, che la sovraintendenza si inventa nelle persone di questi signori, cioè questi signori, Domenica Gullì, Ignazio Perrone, mi pare che si chiama, Maria Congetta Mangiapane, Vincenzo Rinaldi, cosa fanno? Scrivono una nota di tre pagine alla procura della Repubblica, ai carabinieri, alla regione, ai vigili del fuoco, per interferire in un'udienza penale nel fine settimana. Qui viene la voglia di dire, torniamo al proibizionismo, vietiamo la vendita dell'alcol. Non c'è solo un problema che riguarda il traffico nelle strade, le risse, eccetera, eccetera, ma anche che qualcuno beve eccessivamente e poi scrive minchiate esplosive di questo tipo. Ma continuiamo. La tua e la SAIS trasporti non sono disposti a subire passivamente gravi accuse impondate e diffamatorie di illegalità. Signori della tua, della SAIS, signori legali, guardiamoci nelle palle degli occhi. Se non siete disponibili a subire passivamente, querelatemi e date la querela ai giornali. Voi siete truffatori ed estortori, avete storto per circa 13 o 14 anni i cittadini di Agrigento per milioni di euro, togliendo il biglietto orario che era obbligatorio per contratto e provvedimento comunale. Avete commesso reati, avete il coraggio di denunziarmi? Avete il coraggio di denunziarmi per calunnia? Perché io tutte queste cose, come sapete, le ho depositate alla procura. Le dico qua pubblicamente, e qua pubblicamente dico, che avete realizzato abusi edilizi sulla sponda del fiume, sull'argine del fiume, abusi edilizi con il distributore di benzina illegale, di carburanti, non di benzina, perché è gasolio e urea, non benzina, abusi edilizi con l'impianto di ricarica elettrica degli automezzi elettrici, abusi edilizi con le vasche serbatoi di carburante, abusi edilizi e non venite. Non subite passivamente, fate la querela come faccio io e la mostrate, e la mostrate così, come io sto mostrando la denunzia di oggi, che adesso vi leggerò. Ma continuiamo a leggere la nota. Se alla sovrintendenza sono erroneamente sfuggiti gli atti, dove espressamente si indicavano i progetti che sono stati autorizzati, i vicompresi parcheggio e due piccole cisterne per il carburante, non sono da tale istituzione, ma anche dei vigili del fuoco e da tutte le autorità preposte. Sarà premura e cura dell'azienda esibirli in sede di convocazione, peraltro già prontamente disposta. E di questo la tua SAES e i trasporti sono liete, perché intende chiarire al più presto la vicenda. E adesso ci divertiamo, facciamo vedere la mia denuncia. Quindi, signori della tua SAES, voi siete stati autorizzati dai vigili del fuoco e da altre autorità. Non siete mai stati autorizzati dalla sovrintendenza, cioè dall'autorità più importante, trattandosi di parco archeologico. E adesso vi faccio vedere quello che vi scrivo. Immediatamente lo vediamo. Vediamo le pagine successive a questa prima pagina. In questa prima pagina leggiamo la indestata associazione Giuseo Arnona, preso atto del comunicato stampa, insultante, offensivo e soprattutto intimidatorio, quello che abbiamo appena letto, diffuso il 7 ottobre ultimo scosso, dai legali, ignoti legali, legali che non si firmano, della tua SAES, contro lo scrivente presidente di questa associazione e contro codesta sovrintendenza. Comunicato stampa relativo agli illeciti accertati con atto prot 9.427, cioè questo atto che stiamo vedendo, da codesta sovrintendenza. Non lasciandosi intimidire preliminarmente si denunziano le seguenti opere totalmente abusive realizzate da tua SAES in contrasto con la normativa della zona A del parco, opere edilizie permanenti, prevalentemente in metallo, installate sul piano di campagna di detta sede di via Emporium e costituite. Adesso leggiamo da cosa sono costituite le opere che vanno immediatamente sequestrate. Ma ribadiamo che sono opere abusive in contrasto con la normativa del parco archeologico della Valla dei Tembri. Queste opere sono imbiandi di distribuzione d'alimentazione per veicoli elettrici, imbiandi per la distribuzione dei carburanti, tutto abusivo. Tali opere vanno sequestrate ad oras. E adesso continuiamo con la nostra denunzia e ci divertiamo a prenderla sul computer dalla PEC inviata alla sovrintendenza. Non lasciandosi intimidire, innanzitutto si premette quando segue. Per una lunga e deleteria fase, nel decennio passato e anche prima, all'interno di codesta sovrintendenza, hanno operato dirigenti di vertice dediti al malaffare e alla corruzione, nonché alla clamorosa subalternità delittuosa a politici delinquenti. Quindi racconto alcuni episodi che hanno protagonisti politici delinquenti e funzionari invedeli che hanno posto in essere atti criminosi per favorire interessi illegali, sempre nell'area di tutela del parco archeologico. Ricordo una serie di personalità che ognuno qui può vedere, ma per velocità non sto a perdere tempo a leggere. E poi dico, di tale mefitico contesto, cioè di tale puzzolente ambiente di corruzione esistente nel decennio passato all'interno di codesta sovrintendenza ai beni culturali e ambientali, vanno inseriti, si sono da tempo inseriti i vertici di Tuasais. Quindi alla sovrintendenza avevamo dirigenti delinquenti e vi ricordo che quello che stiamo leggendo è l'atto che ha già la procura della Repubblica di Agrigento, vedete i timbri, ed è anzi la seconda pagina di questo atto. Eccolo qua, qui viene ricostruita la storia, e ora la vediamo sul computer, dei dirigenti delinquenti, di quelli asserviti al delinquente Rosario Crocetta, episodi specifici. Viene ricordato il ruolo di Bernardo Agro arrestato per corruzione, viene ricordato al Procuratore della Repubblica il contesto di malaffare all'interno del CDA del Parco archeologico, e torniamo a noi. In tale mefitico contesto ci sono da tempo inseriti i vertici di Tuasais, vertici dediti al delitto sistematico ai fini di profitto, come dimostra la nota attività di estorsione e truffa, relativa al biglietto orario, illecitamente sorpresso. Altrettanto pacifica e ben nota è l'attività dei vertici di Tuasais, di corruzione perpetrata mediante le assunzioni di lavoratori segnalati da politici. Attività di corruzione che io ho già denunziato alla Procura della Repubblica, a carico di Franco Miccichè. Se avremo tempo la vedremo. Si corrompono i politici garantendo loro assunzioni di amici e i politici corrotti adottavano procedimenti e provvedimenti illegiti e di favore o emettevano, o omettevano, 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 cioè non ponevano emessere, facevano omissione, provvedimenti doverosi quali quelli di fare la nuova gara e di non prorogare l'appalto illegalmente alla tua. Poi andremo a vedere un'altra cosuccia. Ciò premesso, occorre verificare se il progetto chiaro, esaustivo, specifico, presentato da Tuasais, i Vigili del Fuoco, in data 2010-2015, e contenendo espressamente disegni e relazioni in ordine all'impianto di distribuzione di carburante e ai serbatoi di carburante, sia mai stato presentato al vaglio della sovrintendenza, in quanto trattasi di opere, queste, dei serbatoi e delle pompe di carburante che non potevano installarsi nell'area del parco archeologico. E allora dobbiamo vedere se questi signori hanno presentato alla sovrintendenza lo stesso progetto che hanno presentato ai Vigili del Fuoco. e adesso vedremo una cosa molto interessante. Io scrivo alla Procura della Repubblica e alla sovrintendenza e di verificare se questo progetto di impianto di distribuzione in piena valle dei templi, impianto di distribuzione di carburanti, in piena valle dei templi, questo progetto sia stato presentato anche in sovrintendenza. Qui noi abbiamo la risposta dei Vigili del Fuoco e i Vigili del Fuoco ci dicono Egregi signori della tua, voi ci avete presentato un progetto in data 2010-2015. In questo progetto gli allegati tecnici disegnano un zerbatoio di gasolio da metri cubi 20, un zerbatoio orea da metri cubi 5, una colonnina di distribuzione a doppia erogazione gasolio-gasolio, una colonnina di distribuzione a doppia erogazione orea-orea. Questo progetto che è stato presentato ai Vigili del Fuoco è mai stato presentato alla sovrintendenza? E pare che non sia mai stato presentato alla sovrintendenza e ai Vigili del Fuoco sia stato falsamente dichiarato che alla sovrintendenza era stato presentato ed autorizzato. Ma leggiamo quello che abbiamo ancora scritto a procura e sovrintendenza. In particolare se tale attività di distribuzione di carburanti sia consentita dall'anumativa del Parco archeologico che in vero vieta tassativamente tali nuove opere come già accennato nella seconda pagina del provvedimento alla sovrintendenza del 4 ottobre 2024, chi mente la sovrintendenza che in questo provvedimento mandato alla procura scrive qui che non ha autorizzato nulla e che queste opere sono totalmente illegali opere totalmente illegali vediamo dove è scritto perché c'è scritto un attimo solo che ve lo leggo allora perfetto quindi un attimo che lo leggiamo la sovrintendenza dice che tale opere non sono autorizzate ne potevano mai autorizzarsi l'autorizzazione per la realizzazione dei serbatoi di gasolio è stata negata con nota 4.367 del 10.597 a mente per oggetto e qui c'è tutta la nota in quanto è stata negata tali opere non rientrano tra gli interventi consentiti dalla normativa di tutela vigente chi mente? La sovrintendenza c'è un ente pubblico che dice di avere negato l'autorizzazione al distributore di benzina ai serbatoi perché tali impianti non sono autorizzabili o vendono i legali di tua e size io ho pochi dubbi su chi mente per cui adesso dico che poiché la sovrintendenza sostiene che sono opere abusive e lo sostiene in una nota mandata ai vigili urbani eccoli qua ai vigili urbani e alla procura e adesso i vigili urbani devono immediatamente sequestrare questi imbianti occorre verificare ed esplicitare ulteriormente alla procura della repubblica al comando dei vigili urbani per l'immediato sequestro signori cosa prevede la normativa del parco archeologico in ordine alla compatibilità non si manca di richiamare al procuratore della repubblica ecco vi ricordo questa nota che stiamo leggendo è già sul tavolo del procuratore della repubblica quello che ha appena mandato i carabinieri a sequestrare le carte del mandorlembiore di Achille Lauro della morte di Alberto Re caro Franco Micichè forse è il caso che tu segui un consiglio che ti avevo dato e che adesso ti faccio risentire caro Franco Micichè allora non si manca di richiamare il procuratore della repubblica in merito alla possibilità di accertare perché a fronte di un'esplicita denunzia degli anni 2021 e 2022 eccola qua si sia omesso sino al 4 ottobre all'interno della sovraintendenza stessa di relazionare alla procura della repubblica in merito a tali illeciti e di omettere il sequestro e lo dice la stessa sovraintendenza che io queste cose le avevo denunziate nell'anno 2021 e quindi nuovamente denunziate a marzo 2023 e perché l'accertamento viene comunicato per i sequestri solo ora abbiamo pure delle cose non chiare dentro la procura la sovraintendenza deve relazionare alla procura della repubblica in ordine a quelle che appaiono con evidenza condotte di reato di truffa e di falso ideologico perpetrate al fine di utilizzare magari con sostituzione successiva di allegati marginali o di semplici paginette i provvedimenti della sovraintendenza del 2013 e 2015 relativi a normali imbianti idrici di trattamento di acque proprio vane e refle come provvedimenti finalizzati ad autorizzare distributori di carburante già già perché la sovraintendenza ha accertato che al comune di Agrigento tu e SAIS hanno comunicato che nel 2013 e nel 2015 la sovraintendenza stessa avrebbe autorizzato i distributori di carburante e invece la sovraintendenza non ha autorizzato un bel nulla ma cosa aveva chiesto tu a SAIS nel 2013 e nel 2015 aveva chiesto di realizzare imbianti di trattamento di acque piovane e di acque e reflue e allora se tu chiedi di realizzare imbianti di trattamento di acque piovane e di acque e reflue come direbbe Antonio Di Pietro che ci azzeccano i serbatoi di gasolio e di urea e gli imbianti per caricare i pullman elettrici che ci azzeccano non ci azzeccano nulla o non ci azzeccano la famosa bene amata puntini 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 e allora andiamo avanti signor procuratore falsificare gli atti imbrogliare gli enti pubblici attestare agli enti pubblici cose non vere significa truffa e concorso in valso ideologico truffa e concorso in valso ideologico è possibile che abbiano chiesto l'inviando di trattamento delle acque e reflue e quindi le relazioni sono tutte ben fatte trattamento di acque e reflue trattamento di acque piovane tubature di acque piovane vasche per le acque piovane e poi magari successivamente abbiano infilato un disegnino un disegnino così un disegnino un disegnino un disegnino con le pompe con le pompette con gli arnesi per pompare il gasolio in un disegnino così infilato in un progetto che aveva un altro argomento e infatti io dico al signor sovrintendente se mi ha stato se sia mai stato protocollato in sovrintendenza da parte della tua SAIS protocollata in sovrintendenza da parte della tua SAIS un'istanza indicante nell'oggetto nella relazione di accompagnamento o nella relazione tecnica o in espliciti allegati con dettaglio tecnico con la quale istanza si chiedeva l'autorizzazione alla relazione di un impianto di distribuzione di carburanti se voi autorizzate un impianto di distribuzione di carburanti devi presentare un'istanza con scritto oggetto due punti come è fatto con i vigili del fuoco né più e ne meno scrivendo voglio realizzare un distributore di carburanti deve essere con queste caratteristiche con questi disegni con questi luoghi eccetera eccetera così si fa e lo sanno fare perché lo hanno fatto con i vigili del fuoco se non l'hanno fatto con la sovrintendenza è perché questi della tua size esattamente come con il biglietto orario soppresso per truffare per milioni di euro gli agrigentini più poveri hanno perfettato un altro grande imbroglio signori non subite querelate e fate come me fate vedere le denunzie col bollo della procura così nessuno si sbaglia e allora per ragioni urgenti ed immediati dei prossimi giorni i giuristi di questa associazione sono costretti al momento a concludere questa nota ma rimandando agli approfondimenti di una seconda parte c'è un resto signori della tua size c'è un resto non vi preoccupate ma rimandando agli approfondimenti ad una seconda parte oltre a quando già esposto in queste precedenti tre pagine si chiede di avere accesso immediato alla pratica di sanatori edilizia in piena zona già perché sfunda ora che hanno avuto pure una sanatoria edilizia in piena zona nel 2001 quando si facevano gli imbrogli della villa abusiva di Sodano in sovrintendenza quando in sovrintendenza c'era quello strano geometra di nome Vaccaro che andava a misurare l'immobile di Sodano alto quando lui cioè un metro e sessanta e scriveva che era alto il doppio di lui tre metri e venti il geometra Vaccaro allora è possibile che soggetti simili abbiano rilasciato sanatori edilizie illegali lo leggiamo in una nota pure della sovrintendenza però questa nota della sovrintendenza vediamo se la troviamo subito si la troviamo subito è firmata da Antonino Fera e Bernardo Agrò quindi diciamo soggetti uno già sottoposto a misura cautelare per corruzione un altro che se l'è scansata pietre a pietre per gli imbrogli fatti per favorire gli amici del presidente della regione Crocetta querelami ingegnere ferra querelami così ti faccio nero nero come il carbone secondo le leggi dello Stato ti faccio nero non in altro modo allora qui leggiamo che è stato dato un nulla osta in sanatoria alla tua SAIS in piena zona A e in piena zona A nulla osta in sanatoria sanatoria edilizia comunque ci ho detto è il caso di saperlo e allora noi lo stiamo chiedendo alla sovrintendenza qui si fa riferimento nella nota che abbiamo visto e ancora al fine della pronta querela si chiede perché stiamo querelando i legali si sapranno i nomi ora con la querela a giorni vi faremo vedere la querela vogliamo sapere e vogliamo avere gli atti degli abusi edilizi totalmente illegali perpetrati dalla tua SAIS modificando gli argini del fiume adesso c'è da ridere nuovamente torniamo alla nota della tua SAIS perché abbiamo una cosa che fa morire dal ridere guardate cosa scrivono gli amici della tua SAIS come si fa ad ingrandire eccolo qua anche sui presunti sbancamenti dell'argine del fiume le informazioni del signore Arnone sono alquando errate e fino ad oggi sono state riprese le targhe dei veicoli estranei alla società tua SAIS dei trasporti che da tempo stanno compiendo tale attività e per fini diversi da quelli che il signore Arnone ipotizza dato che si tratta di veicoli comunali quindi lì vi pigliate la querela la sovraintendenza scrive che io ho denunziato gli abusi sul fiume nell'anno del signore 2021 e 21 e quindi ho ripetuto la denunzia nel 2023 di conseguenza gli abusi di cui stiamo parlando sono quelli realizzati nel 2021 realizzati nel 2021 come scrive la sovraintendenza esattamente esattamente sulla sponda del fiume che dà sui terreni della SAIS tua cosa c'entrano i lavori che sta facendo il comune di Agrigento sul fiume Agagas oggi 2024 signori della tua SAIS voi non è che mi potete fare apparire come un scusate il termine ringoglionito tanto me lo dico io da me voi qui state scrivendo Arnone è un ringoglionito perché diffonde informazioni errate in quando i mezzi che stanno lavorando sul fiume sono quelli comunali oggi stanno lavorando i mezzi comunali dall'altra parte rispetto alla vostra proprietà voi avete fatto abusi che sono denunziati dalla sovrintendenza in questo atto inquadriamolo e facciamolo vedere eccolo qua dov'è che era scritto che hanno fatto gli abusi sul fiume un attimo solo che lo facciamo vedere qui la sovrintendenza in questa parte conferma che la mia denunzia in ordine agli abusi edilizi realizzati modificando la morfologia del fiume gli argini non sono state mai autorizzate né a modifiche dell'argine del fiume per cui non è mai stata neanche richiesta alcuna autorizzazione oltre che secondo la legge non ponevano essere autorizzate quindi sono opere abusive e sono le opere abusive realizzate sul fiume nell'anno 2021 e periodi precedenti non c'entrano nulla con le situazioni attuali per cui adesso costringiamo la sovrintendenza a mandarci pure queste carte la cosa più bella è quella finale chiediamo gli atti che accertano gli abusi edilizzi totalmente illegali perpetrati modificando gli argini del fiume e ambleando con l'asfalto il piazzale di posteggio vietato vietato infine avendo ben chiaro che il codesto sovrintendente Rinaldi e soprattutto i suoi predecessori hanno gravemente favorito la tua SAIS questo sovrintendente e quelli precedenti hanno favorito la tua SAIS si diffida il sovrintendente a non tentare di coprire l'operato di coloro che hanno chiuso ambedue gli occhi e probabilmente si sono fatti di corrompere al fine uno di fare ambleare il posteggio dei mezzi posteggio che era stato espressamente vietato in precedenza da codesta sovrintendenza si rimarca che tale asfaltature e tale modifiche sono in contrasto con la normativa della zona A non si manca di richiamare il procuratore della Repubblica in merito alla possibilità di accertare perché a fronte di un'esplicita denuncia degli anni 21 e 23 e sino al 4 ottobre 24 si sia omesso da parte sovrintendente di relazionare alla procura e di procedere al sequestro degli abusi nonché di ordinare la remissione in bristino segue prossimamente la seconda parte e allora ormai con la tua diciamo siamo messi abbastanza maluccio voglio farvi vedere in conclusione un passaggio di un video di qualche mese fa quando io in relazione agli imbrogli già denunziati della spesa culturale di Achille Lauro della tua e invitavo il sindaco a dimettersi ma prima di farvi vedere quell'antico video di 4 mesi antico per modo di dire voglio farvi vedere le denunzie che ha il procuratore della repubblica anche non recentissime fatte innanzi la squadra mobile di Agrigento vediamole in un attimo vedremo a volo d'uccello questo verbale di denunzia la squadra mobile 22 settembre 22 Arnone ritiene di integrare qui abbiamo tutto il quadro degli imbrogli tua size in questa sede sottolinea il formula oltre la notizia di reato a carico del sindaco Micichetti dirigente comunale Catano Greco i quali hanno prorogato illecitamente il contratto scaduto dalla tua in particolare con storia nel dovere di istruire l'Itari della revoca del contratto per l'imbroglio dei biglietti a tempo poi abbiamo qui l'assessore Candone che in queste ore sarà felice del sequestro degli atti del mandorlembiore di cui lui si è occupato ambiamente pur non essendo l'assessore al ramo non era l'assessore al ramo e stabiliva come si dovevano spendere soldi che avrebbe dovuto stabilire come spendere soldi il dirigente e tutto questo è diciamo molto complicato Candone era informato degli illeciti della tua tutto questo reso davanti alla questura squadra mobile imbrogli tua andiamo avanti con le altre cose che sono raccontate qui che sono pure interessanti per quanto ci riguarda i vigili urbani altra denunzia la corruzione tua il sindaco Miciche ha ottenuto assunzioni da parte della tua nell'ambito della corruzione per prorogare l'appalto tua corruzione squadra mobile polizia guarda guarda Miciche guarda tutti gli imbrogli tua inclusa la tua corruzione sono nelle mani del procuratore della repubblica tua piccarella Miciche vice sindaco trupia tangenti dei concerti Achille Lauro Fabrizio Lagaipa disfetto turistico mandorlembiore guarda che cose Miciche te lo faccio rivedere Miciche gli amici di Miciche glielo facciano vedere sono cose raccontate alla squadra mobile cioè alla polizia questura di agrigento reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione verbale di denunzia come si mette male Miciche come si mette male qui c'è un'altra denunzia pure presentata qui c'è scritto Miciche 11 maggio 24 alla squadra mobile finalizzata all'arresto di Miciche corruzione tua tua Miciche guarda Miciche corruzione tua disfetto turistico parco archeologico vogliamo rivedere la fine sindesi finale Achille Lauro Achille Lauro Miciche guarda che scrive questo giornale Miciche che momenti brutti Miciche guarda Miciche Achille Lauro Achille Lauro i carabinieri al comune hanno sequestrato oggi 9 ottobre una serie di carte tra cui Achille Lauro Maria Miciche che cose brutte che si preparano dimettiti vattene a casa vattene a casa tangenti atto depositato in procura Miciche tangenti atti davanti la squadra mobile Miciche si mette male enormi guadagni per la tua SRL eliminazione del biglietto a tempo previsto per norma del contratto Miciche si mette male corruzione tua Miciche il figlio dell'assessore Lisci Assundo si chiama Posande il tuo amico corruzione Miciche timbro della procura corruzione truffatrice tua sagra del mandorle inviore sagra del mandorle inviore sindasi finale tangenti spartite siamo messi proprio male Miciche timbro di nuovo della procura 15 maggio 24 e adesso un'ultima notizia su cui torneremo voi sapete la denunzia che io ho fatto contro la segretaria generale un giornale dice che la segretaria generale ha già chiesto di andare via ci ritorneremo sulla segretaria generale ovviamente mi pare che il giornale sia questo un attimo solo vediamo di pigliare la pagina vediamo 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 Maria Floresta vicina all'addio come segretario generale del comune di Ervigento il fallimento di un'amministrazione poco trasparente che coincidenza io denuncio il segretario generale volete vedere la denuncia del segretario generale ve la faccio vedere in un secondo e tre giorni dopo i giornali danno la notizia che il segretario generale scappa ma vediamo la denuncia contro il segretario generale vale la pena vediamo la descop floresta denuncia floresta eccola qua depositato in cancelleria della procura attività delittuose sistematiche richiesta di allontanamento immediato dottoressa floresta quindi io deposito in procura il 4 ottobre questa denuncia contro la floresta la illustro con un video il 4 ottobre il 9 ottobre dopo 5 giorni già la floresta vuole lasciare il comune ma ci ritorneremo perché vi avevo detto che vi avrei illustrato questa denuncia adesso abbiamo finito e vedrete il passaggio iniziale di un altro video sono pochi minuti ma molto interessanti il video è questo che vi sto per fare vedere il video di cui vedrete i primi minuti adesso in goda a questo attuale è questo video mostro e spiego la richiesta di arresto del sindaco Micichetti depositato oggi in procura ed è un video che ha avuto 3446 visualizzazioni 4 mesi addietro ecco come inizia signori siciliani oggi scriviamo una pagina importante della storia di questa regione e ovviamente innanzitutto della realtà agrigentina questa è la PEC di Giuseppe Arnone cosa leggete? denunzia per corruzione e molto altro a carico di Micichè Francesco apriamo la PEC così comprendiamo come si fanno le cose serie apriamola bene e andiamo all'allegato l'allegato che ci interessa è questo qui vale la pena di osservare quello che avviene l'allegato è stato mandato alla prefettura di Agrigento e alla procura della Repubblica di Palermo vediamo che c'è scritto nell'allegato immediatamente al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento che ce l'ha già col depositato adesso lo vedremo alla procura della Repubblica di Palermo al GIP Elisabetta Stambacchia donna estremamente in gamba e capirete il perché al prefetto di Agrigento anzi allarghiamo al prefetto di Agrigento agli organi di informazione vedremo quali organi di informazione avranno il coraggio di pubblicare questo atto denunzia finalizzata all'arresto del sindaco Micciche e ad indagini sul medesimo Micciche per corruzione e molto altro procedimento per cui all'arresto già effettuato per corruzione di Giovanni Caetano e altro l'altro sono tua SRL distretto turistico consiglio del parco archeologico ecce ecce poi c'è la sollecitazione affinché venga escusso dalla procura di Palermo e dalla procura di Agrigento immediatamente Giuseppe di Rosa del Codacons che a suo tempo aveva denunziato gli imbrogli a mai finire di Di Giovanni e di Micciche di Di Giovanni e di Micciche di Di Giovanni e di Micciche lo ripetiamo e non è mai stato sentito questo esposto che vedete è la prima parte preliminarmente Giuseppe Arnone premette ancora una volta i notevolissimi rischi di omicidio che corre in relazione al proprio trentennale impegno per la legalità la denunzia che vedete ora la vedrete con i timpri della procura di Agrigento e si dilunga per otto pagine per otto pagine questa capacità di velocità amministrativa se lui fuori dal comune di Agrigento fuori da questa è comune fuori da questa provvigia lui facesse altre cose questo a noi non interessa franco micciche mia nonna mi diceva mia grande maestra mia nonna fanno i babbi pugnire la guerra ma fai il babbo per non andare alla guerra cioè chi ti sente parlare dovrebbe ritenere che tu non hai capito che di Giovanni è stato arrestato per attività che faceva come dirigente comunale non l'hai capito non l'hai capito non è stato arrestato perché faceva rapine in banca a Partinico diciamo ma che ne potevo sapere io al comune come dirigente era inappuntabile meraviglioso educatissimo poi a Partinico faceva rapine in banca ma io che ne potevo sapere no a Partinico a Sciacca davanti le segreterie non so di chi prendeva tangenti per le attività del comune di Agrigento per le attività che faceva in tuo nome e per tuo conto in tuo nome e per tuo conto ed è venuto il tempo adesso Miciche in questo video di leggerti quello che dicono quelli del nido d'argento intercettati e non si capisce perché la procura di Palermo non ha chiesto la cattura neanche per te o quantomeno non ti ha mandato l'avviso di garanzia ma adesso ci penso io perché adesso si deve indagare e solo non indagano con le buone indagheranno a calcingulo si deve indagare sulle assunzioni si deve indagare sulle persone che tu hai segnalato che tu Franco Miciche hai segnalato ponendo in essere corruzione e probabilmente concussione ma leggiamole queste intercettazioni leggiamole signori questo qua è il timbro della procura di congiunzione qua siamo a pagina 2 abbiamo l'intercettazione pubblicata da due giornali uno è il report Sicilia che vi consiglio di leggere l'altro è Grandangolo hanno fatto questi due giornali una buona operazione perché hanno reso noto quello che altri hanno avuto paura di rendere noto queste sono le intercettazioni telefoniche parla questo corruttore Francesco Chiavello e dice facciamo come dicono loro facciamo come dicono loro chi sono loro tano gnam gnam mangia assai ma era uno non dice facciamo come dice lui dice facciamo come dicono loro e adesso vedremo da altri riscontri che loro sono tano gnam gnam e frango miccichè perché parliamo delle assunzioni che voleva frango miccichè frango miccichè quello delle assunzioni della tua SRL oltre che di questa intercettazione allora Francesco Chiavello dice facciamo come dicono loro così ci leviamo e andiamo licenziando persone che dobbiamo fare è inutile perché vuol dire che tutti e cento non li possiamo prendere e ne prendiamo 70 pazienza quindi c'era un mercato nelle assunzioni di questa cooperativa dei corruttori si pigliava tano gnam gnam i soldoni nei bagni dei ristoranti bene avvolti le tangenti e poi soprattutto anche a nome di frango miccichè imponeva le assunzioni della concussione e scrive il GIP che questa intercettazione facciamo come dicono loro sulle assunzioni sembra perfettamente in linea con quanto già ampiamente analizzato in altra conversazione allora quando Giuseppe Gaio l'altro corruttore racconta a Chiavello l'esito non proprio felice che aveva avuto l'incontro tra Massimo Terzo e Di Giovanni in quella stessa giornata cioè l'11 ottobre 21 Gaio dice Massimo Terzo è tornato con la notizia che quello è tutto ingazzato quello è come vedremo Gaetano Di Giovanni era ingazzatissimo Gaetano Di Giovanni e perché? perché gli avete stravolto l'elenco del personale gli hanno stravolto l'elenco del personale perché non pigliava solo i soldi imponeva le assunzioni Chiavello dice perché non è potuto essere pigliarle tutte quelle segnalate da Di Giovanni ma molti a Di Giovanni gli sono rimasti gli assunti e Gaio dice e sono entrate però persone diverse due del sindaco non sono entrati e Gaetano Di Giovanni faceva l'opera Gaetano Di Giovanni faceva l'opera allora signori della procura di Palermo lo vogliamo arrestare a Franco Micicchè Franco Micicchè vuoi evitare l'arresto e te ne vai a casa prove sono intercettazioni intercettazioni telefoniche intercettazioni telefoniche pubblicate da Report Sicilia giornale diretto da Diego Romeo e da Grandangolo giornale diretto da Franco Castaldo eccole qua facciamo come dicono loro le assunzioni cioè come dicono il sindaco Gaetano Di Giovanni Tano Gnam Gnam gli avete scevolto l'elenco del personale per le assunzioni sono saltate due persone del sindaco due non sono entrate e Tano Gnam Gnam faceva l'opera ecco perché il sindaco dice quello che faceva fuori dal comune a lui non interessava a Franco Miciche quello che faceva fuori dal comune a lui non interessava al comune quello che chiedeva le assunzioni per lui per Miciche può dire mai può mai parlare male di Tano Gnam Gnam di Franco Miciche deve difenderlo ovviamente se Tano Gnam Gnam non va parte della famiglia dei Catamba la tradizione di collaborare con la giustizia ma se Tano Gnam Gnam tirasse fuori l'elenco delle persone assunte e dicesse questa era del sindaco questa era del sindaco questa era mia questa era di mio cugino che succederebbe una tragedia una tragedia Franco Miciche fallo per la tua famiglia dimettiti subito vattene a casa adesso c'è pure la denunzia per la corruzione della tua a te sembrava di essere libero Arnone non c'è più in consiglio comunale possiamo rubare liberamente delinquere come meglio ci viene no non è così Arnone è vivo e come si suol dire lotta per la legalità caro Franco Miciche è qui ed è la vera opposizione hai non solo la corruzione delle assunzioni del distretto sanitario della cooperativa nido d'argento della corruzione e concussione di cui parlano Massimiliano Terzo e Giuseppe Gaio ma abbiamo anche la corruzione delle assunzioni alla tua io ti ho fatto l'esposto sulla truffa della tua tu hai il dovere di risolvere il contratto con la tua mandarle a casa invece nell'ambito della corruzione delle assunzioni hai ritenuto di prorogare due volte il contratto alla tua che ti faceva le assunzioni tutto questo è scritto in questo esposto tutto questo adesso è a disposizione della procura di agrigento quando io dico a disposizione dico è messo sul tavolo del procuratore di agrigento che dovrà agire perché io rischio la vita a mettermi contro i poteri forti decriminali dei colletti bianchi e quindi non ho timore per nessuno nell'andare per la mia strada e imporre il rispetto delle leggi in ogni sede signori che mi mandate le lettere anonime di minacce non mi fermo non mi sono fermato all'epoca delle intimidazioni serie di Cosa Nostra che non vi racconto per evitare di perdere tempo quindi immaginate se mi intimidisco con le lettere anonime né mi preoccupo della censura che i giornali fanno adesso probabilmente questa censura sarà presente di meno visto che la situazione giornalistica sia un po' più allargata da ultimo ma andiamo avanti qui è messo chiaro due del sindaco non sono entrati e faceva l'opera Gaetano Di Giovanni perché doveva dare conto e ragione al sindaco e adesso cosa abbiamo il quadro probatorio che depone per l'arresto di Francesco Miccichè per porre fine al regime delinquenziale della corruzione presente oggi su vasta scala al comune di Agrigento qui ci sono le altre parti delle intercettazioni dobbiamo commentarle perché depongono sempre per l'arresto immediato di Miccichè Miccichè essendo complice di Di Giovanni faceva scegliere a Di Giovanni pure i dirigenti da mettere nei posti chiave questa è un'altra intercettazione parlano Giuseppe Gaio e Massimiliano Terzo e si dicono ecco perché forse o si sta facendo cambiare o si mette alla ragioneria si sta spostando dalla solidarietà sociale il nostro Tano Gnam Gnam e si mette alla ragioneria e fa togliere dalla ragioneria il ragioniere cioè Mandione i due parlano e l'altro dice Gaio e chi ci va ai servizi ai servizi sociali che era la cosa che interessava di più loro e Terzo che aveva parlato con Tano Gnam Gnam dice ai servizi sociali c'andrà un altro Mandione diventerà comandante della polizia municipale e dicono ma lui lo sa no non lo sa Mandione non lo sa che diventerà comandante della polizia municipale e verrà rimosso dal settore ragioneria non lo sapeva lo sapevano Tano Gnam Gnam che comandava e Miciche che era il complice di Tano Gnam Gnam non lo sapevano